I giovani talenti, l'eccellenza dei suoi docenti e la felice sinergia delle collaborazioni con le principali istituzioni musicali del territorio eleveranno ad un ruolo da protagonista il conservatorio Rossini nel 2024 anno di Pesaro capitale della cultura. Da Palazzo Livieri i depositari del dono rossignano saranno infatti chiamati a dirigere quella città orchestra metafora del lavoro di squadra che ha reso Pesaro capitale. Città orchestra che il conservatorio coordinerà per quel che riguarda la musica esaltando l'elemento identitario rossignano fra rassegne, incontri, concorsi e soprattutto grandi eventi in cui convergeranno collaborazioni prestigiose. Ovviamente noi occupandoci di musica e siccome lo slogan è città orchestra siamo stati i primi a dover cucire quest'orchestra e l'abbiamo cucita con molta umiltà e con tanta voglia di donare alla città, ai nostri studenti, ai nostri docenti il bello, quello che di bello possiamo offrire. Aprire le nostre porte, le nostre collaborazioni con tutte le istituzioni che si occupano di musica nella nostra città, che sono veramente tante. Basti solo pensare a parte vabbè quelle ormai consolidate come l'Opera Festival, la Fondazione Rossini per la ricerca, ma anche la sinfonica, l'orchestra che è diventata Ico, la forma con la quale abbiamo ricostituito per un altro triennio la collaborazione per la classe di direzione d'orchestra, il progetto Raffaello che mette insieme Rossini per Raffaello, la città di Pesaro e Urbino attraverso due cose molto belle, la cantata di Lauro Rossi e una composizione scritta originale dal nostro vice direttore Mangel. Fiorenti collaborazioni per grandi appuntamenti che spazieranno dall'orchestra di violoncelli al fianco di Giovanni Sollima al progetto dedicato a Raffaello, dalla festa della musica con Pesaro Film Festival all'International Music Project Program. Si comincia però il 29 febbraio con il concerto di compleanno di Giochino Rossini e il conservatorio che si rappropria del suo teatro per la messa di gloria. Sarà realizzata appunto con la nostra orchestra diretta da Luca Ferrara, maestro del coro Lorenzetti, dal nostro coro di 80 persone e dai solisti di Rossini Opera Festival e sarà anche l'occasione per l'inaugurazione dell'anno accademico. Anno accademico particolare non solo per il 2024 di Capitale della Cultura, ma perché sta prendendo vigore la tanta auspicata ristrutturazione di Palazzo Olivieri. Credo che sia la prima volta dopo tantissimi anni che il conservatorio è riuscito ad avere un finanziamento importante, si parla di oltre 5 milioni e mezzo, questo consente di poter fare delle opere innanzitutto di messa in sicurezza del palazzo perché si inizierà dal tetto, ma credo che si apporteranno anche delle modifiche funzionali che miglioreranno di molto la capacità del conservatorio di poter ospitare ragazzi di tutto il mondo e derogare delle prestazioni di formazione che sono estremamente importanti perché stiamo parlando di uno dei conservatori più prestigiosi al mondo in assoluto.